Cosa ti aspetti no? Cosa ti puoi aspettare da molto comunicati? Sicuramente per le moto stock faranno una cosa molto aderente alla linea di pensiero motocross Sicuramente avete notato che le copertine dei nostri nuovi video sono diventate molto più belle rispetto a prima Di questo salto di qualità è responsabile Christian di Speedy Visual il quale ringrazio molto Il nostro nuovo partner che ci aiuterà a creare tutti i componenti grafici del canale Come vedete potete trovarlo su Instagram e non esitate a contattarlo per qualsiasi lavoro di design vi serve Bella a tutti ragazzi bentornati e ben ritrovati in un nuovo video di Starpad Oggi parliamo di Ducati Però prima di iniziare col video vi ricordo che se volete lasciare un like e iscrivetevi al canale Ma a noi ci piace l'idea Oggi si parla di novità che se ne stanno parlando di brutto nel paddock da un po' di tempo Ed è proprio di Ducati Ognuno spara la leggenda che vuole Oggi faremo un elenco di tutte le cose che abbiamo sentito Però non ci credo Cioè Sì Prendetelo molto con le pinze Di quello che abbiamo sentito È uscito proprio oggi tra l'altro Quando stiamo registrando il video Adesso Adesso sì Qualche ora prima È un video da parte di Ducati Dove Pezzuto prova la moto a Faenzo Che fan vedere o non fan vedere Cioè è tutto molto segreto È tutto molto studiato Nel senso che ogni frame è sfocato Ogni frame passa la moto Noi abbiamo rallentato il video al massimo Non c'è un cazzo da fare Non riesci a vedere niente No 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 Non riesci a vedere neanche Niente Solo un'immagine Mi ho visto che c'è la marmitta Che c'è il collettore all'inizio Che è il cromato Cromato E un altro frame Che è sicuramente la curva Prima del salitone Abbiamo visto la moto Che davanti così ad impatto Sembrava un po' un'onda Sì 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 A pinza freno Quella alta tipica Nissan Tipica Nissan Sì Da Honda Però Insomma Non si vede niente Quindi Che cosa ti aspetti No? Cosa ti puoi aspettare Da molto dedicati Sicuramente per Le moto stock Faranno una cosa Molto aderente Alla linea di pensione Motocross Che è stata Interpresa fino adesso Da tutti gli altri brand A livello invece Prototipo da mondiale Mi piacerebbe Veramente vedere Cosa gli fanno dentro Perché Insomma Tucati ha tante cose A tante Secondo me Riuscirebbe a fare Tantissime migliorie Soprattutto ai motori Che Insomma Noi non le sapremo E non le vedremo mai Però Sarebbe bello Scoprire cosa Fanno Se mettono Questa testa Desmodronica Con il ritorno Delle valvole attivo In pratica Invece di farla molla Se riescono a trovare Qualche altro inganno Tipo Solo distribuzione Non usare la catena Sì perché Cose strane Nel mondo dei motori Uno dice sempre Ormai siamo arrivati No? Siamo arrivati Però Ducati In MotoGP Se qualcuno la segue Ha avuto una cresta Esagerata Per essere una piccola Casa Rispetto ai colossi Come Honda Suzuki Yamaha Diciamo che Mamma Audi Quando Ha sganciato il denaro Chiaro Insomma Ha Rinnovato completamente L'ambiente Ducati Ha rinnovato completamente L'ambiente MotoGP Anche perché Sono stati loro A portare un sacco Di stravolgimenti Nel mondo Della MotoGP Stessa cosa Mi auguro Che facciano nel cross Per svegliare un pochino Le case Che ormai Hanno le stesse moto Da Da vent'anni Cioè sì Si sono evoluti L'unica che si è voluta Le più KTM Da una decina d'anni Le moto sono così Non è che Il concetto di moto È quella lì L'unico vero prototipo Forse nel mondiale Adesso da noi È Honda Allora tornando Alle voci che abbiamo sentito Allora mi hanno detto Che la moto ha girato Le moto hanno girato A Montevarchi Con Pezzuto Che sarà Tester ufficiale Perché ormai Ha girato a Montevarchi Ha girato a Faenza È uscito il video Quindi sarà Tester ufficiale Con pista privata E guardie fuori dalla pista Che giravano Attorno alla pista Chiaro Chiaro Cioè Segreto Cioè Ma sì Vuol dire che c'è qualcosa di grosso Dai Può essere che c'è qualcosa di grosso O può essere Che proprio anche Creano un po' di hype Perché anche il video di Faenza Cioè Pilota nero Moto nera Contrasti zero Se tu non vedi niente No Rai nero Con Occhiale Scott Con sfida Ducati Molto stradale La sfida Ducati Però va bene Dovranno un po' adattarsi anche loro No Sicuramente vogliono creare un po' di hype Perché comunque Non ne sono mai Sì nel settore Vogliono entrare col botto Vogliono sfondare bene Sì Vogliono creare attenzione su di loro Tra l'altro Cairoli Dopo aver detto No guarda sono legato In KTM Bam KTM L'ha licenziato Cioè oppure se l'ha licenziato lui Non ho capito Comunque Decisione del contratto Sì Contratto chiuso E oggi è stato annunciato Cairoli In Ducati Cosa ne pensi? Con anche Lupino Cosa ne pensi? Io penso che abbiano fatto Veramente bene Ha fatto bene E Tony a cambiare Perché comunque Tutto questo porta sicuramente Ad un rinnovamento Ad un ringiovanimento Di tutto Tutto l'ambito Motocross Cioè nel senso Chiaro Giova allo sport Questa competizione Questa cosa qua Giova allo sport Perché In Italia Abbiamo la fortuna Di avere un Italia Cairoli tra l'altro Fuori classe Fuori classe Mondiale come Cairoli Che Sposa la filosofia KTM Da 2010 Sì Quindi Da ben 13 anni Ci sta che Dica Ho finito la mia carriera Faccio il team manager Si buti in un nuovo progetto Secondo me Tornerà Tornerà Dicono A fare qualche gara Nella prossima Sicuramente Ci girerà Parlano di qualche gara Si è parlato Si è letto un po' Sui social Ci ha detto Si Più che altro Di test Stavano per la moto Questo porta sia a Ducati Un vantaggio importante Perché avere un pilota Come lui Ha la possibilità Di sviluppare la moto Al meglio Con uno che ha lavorato Con una delle case più grosse Nel settore di motocross E ha vinto tantissimo Chiaro Ha avuto a che fare Con De Carli Che è una delle persone Uno dei team manager Che a livello mondiale Ha vinto tantissimo Con Cairoli Ha un'esperienza Lui Che nel caso Crea un team Negli anni futuri Con dei giovani Da poter Magari crescere Che può fare Comodo a Ducati Quindi Direi che il connubio C'è tutto Tra l'altro Molto italiano C'è l'italiano Cioè ci sta un po' Di caso generale Come fanno per CES Secondo te Che c'è tutte le motine KTM piccoline E fa anche Ducati Metterò Adesivo Ah Metterò adesivo Metto la grafica Adesivo Comunque venendo Alle cose importanti Al succo Al succo del discorso Questo ribadisco Che tutta roba Che abbiamo sentito Tutta roba Che ci hanno riferito Non è Potrebbe non essere vero Ok Potrebbe non essere vero Ma potrebbe anche essere vero Telaio Dicono che sia in ferro Hanno provato l'alluminio Hanno provato il ferro Hanno provato cose strane Diciamo Però hanno optato per il ferro Che poi è acciaio Terramine acciaio In tubi d'acciaio Tipo KTM Tipo KTM Tipo beta Sì Hanno provato anche Un milione di sospensioni Kayaba Showa Allings Delle sospensioni fatte Da mamma Ducati Un pochino Con Accrocchi generali Non si sa Naturalmente Non so Tu cosa ti aspetti Dallor Io mi aspetterei Una moto di serie Tipo con Già le Allings Perché comunque Ducati lo fa Ok Ne ha fatte anche con Kayaba In realtà Quindi Non lo so A me piacerebbe Con le Allings Diciamo anche Potrebbe essere un'occasione Per Allings Per tornare Perché comunque È una forsella un po' vecchia È un po' stantia Sì Ormai Sì è passata Un po' che anno fa andava Sì adesso è un po' passata Quindi magari Potrebbe essere un'occasione Anche per Naturalmente Come abbiamo detto Una pronta Sia la 250 Che la 450 Contesta Probabilmente Per la moto Che correrà nel mondiale Desmodronica Non si sa Per la moto di produzione Perché sentivo comunque Che hanno costi Elevati Da produrre Forse anche di manutenzione Se non me ne intendo Di manutenzione Eccetera Quindi probabilmente Per il mondiale Lo utilizzeranno Per la produzione Non si sa Però parlano Così Nell'aria Buttati nell'aria Ci sono 3-4 cavalli di differenza Con un capo ufficiale Due e mezzo Quattro tempi Sarebbero tantissimi Sarebbero tantissimi No io La stessa cosa Di così Non si saprà mai Cioè Non si saprà mai Però sicuramente Come è conosciuta Dovevi vedere un partito In testo TGP Forse Potremmo dire Forse è vero No Sicuramente Come a livello Di motore Così Per come ho conosciuto Ducati Penso che sia L'unica cosa Che non mancherà È la peculiarità Della moto Sicuramente Non mancherà È completamente Progettata È realizzata È realizzata a Borgo Parigale Bello Quindi Cioè Italiana Al 100% Italiana Quasi come TM Quasi come TM E Una cosa che farà paura Tante altre case Limite di budget Vabbè sicuramente Non ce n'è Non c'è Non c'è limite budget Penso che sia fondamentale Il budget molto alto O illimitato Come dicono Ma per il semplice fatto Che Cioè se la tua idea È di entrare ufficialmente Nel mondiale Nel 2025 Che il prossimo anno Faranno magari qualche GP E basta Con una o due categorie Metti con voi Il pilota giusto Così Però vincere Non è una cosa Immediata Non è semplice Sicuramente Ci vuole la moto Ci vuole la struttura Del team Ci vuole lo sviluppo Della moto Togli anni La struttura del team Ti posso dire Che Fantic Part away With Maddy Quindi Sono divisi Fantic e il team Maddy Sono divisi E il Maddy Il team Maddy Con un dovuto Rebranding Si trasporrà Nel team Educati Ufficiale Ma tanto Maddy È un team Che è un team Sì è un team È una struttura Secondo me Bella solida Cioè Corrado Che poi è seguito Dal figlio E hanno fatto crescere Tantissimi giovani Cioè Tutti quelli forti In Italia Sono passati Da loro Sono passati Diciamo che Ducati Ha scelto A livello nazionale Il top Ha scelto il top Che roli Maddy Ha preso un lupino Che comunque è un pilota Di altissimo livello E io mi aspetto Al 100% Per il 2025 Un pilota Un top rider In MXGP E un top rider In MXGP Magari un fine carriera Non so Un febbre Un Non lo so No? Un J.H. forse È difficile Non penso Non penso Anche Kairoli Non pensavamo Anche Kairoli Kairoli no Però Non so Erics Non so Molto capatiente Erics Un Jet Lawrence Bellissimo Cioè secondo me Se vai in America Prendi Jet Lawrence Hai pagato Hai pagato la vittoria Una vittoria vinta Una schedina già vinta No Si vedrà Questo è quello che Sappiamo Quello che ci ha detto Quello che abbiamo detto Sui social Potrebbero essere tutte cazzate Lo dico di nuovo Sì Quello che abbiamo sentito Quello che si è parlato Che se ne parla molto Se ne vocifra molto Quindi Bello Noi siamo contenti Un nuovo brand Grosso Che porterà comunque Un grosso movimento Nel motocross Sfida Sfida aperta Sfida aperta Più moto ufficiali Più cose Quindi Tra l'altro è bello Anche Triumph S'aggiunta Quindi Tante case importanti Si stanno affacciando A motocross Che sicuramente Negli anni Non lo vedremo Al prossimo anno Magari tra 2 3 4 5 Vedremo Un po' di funioni Un po' di hype Generale Almeno da arrivare a 15 Sì Con questo Chiudiamo il video Ci vediamo settimana prossima Con un altro VDP Perché non ci sono gare Assolutamente Questo lo vedi più Ultimamente Fino alla fine dell'anno E Vi aggiorniamo Che ci sarà una novità Che la faremo uscire Sicuramente Frizzanti Prima della fine dell'anno Sì Assolutamente Prima sì Magari fine novembre Metà novembre Non speriamo ancora a vedere E Una novità Che a noi Ci gasa tantissimo Che ci passerebbe Portare sempre di più Quindi Rimanete collegati Che Sarà qualcosa di interessante Nei prossimi giorni Ciao a tutti Ragazzi Ciao Potremmo Potremmo La macarina Grazie a tutti Grazie.